L'ultimo appuntamento con storie, libri e cucina in piazza marina è dedicato ai tromboni della società odierna, a suonargliele Mario Giordano. Il giornalista conduttore della trasmissione Mediaset fuori dal coro ha presentato a Barletta il suo libro, scritto con la volontà di smascherare chi appanno mentignare con teorie pronte a contraddirsi con un battito di ciglia. Basta accendere la tv per vedere il tromboni show, persone prima i virologi, poi gli esperti geopolitici, poi i climatologi, che ci raccontano sempre una verità calata dell'altro e che cercano di eliminare ogni pensiero diverso. La mia paura è che si cerchi di eliminare coloro che pensano con la loro testa. Allora io dico attenzione, mio papà mi diceva sempre ma te la contano giusta? Ecco io penso che anche nelle emergenze continue che stiamo vivendo dobbiamo continuare a farci questa domanda. Ma ce la stanno raccontando giusta? Al centro della riflessione il ruolo dei giornalisti. È vero che i giornalisti poi sono fra i principali tromboni, quindi bisogna smascherare anche i tromboni giornalisti, però ha il compito fondamentale di portare i fatti reali. Se non c'è una stampa libera, se l'informazione viene come ha chiesto qualcuno per non fare nomi e cognomi, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, somministrata dall'alto, ecco l'informazione somministrata dall'alto è un grave pericolo. Ma non per me, per te che facciamo questo mestiere, per chi deve avere le informazioni e che non ha più le informazioni giuste, ma solo quelle che vengono somministrate dall'alto. E quello è un pericolo grave per tutti noi. Per Giordano manifestazioni come quella organizzata dall'Associazione Culturale Piazza Marina sono il simbolo di un paese meraviglioso che va difeso e tutelato. Intanto un'Italia che ha voglia di partecipare, ha voglia di vivere, ha voglia di incontrarsi e poi c'è un'Italia fantastica, di realtà, come quelle che conosco qui a Bagletta, di persone che ci sono in tutta Italia. Ho fatto il giro della provincia, la provincia italiana è meravigliosa. Ogni angolo che giri ha una ricchezza, una storia, una tradizione, le particolarità. Un paese meraviglioso. Questo però fa arrabbiare ancora di più perché si pensa che noi rischiamo di perdere questo patrimonio e per questo bisogna, qualcuno dice che urlo troppo, ma se va disperso questo patrimonio bisogna urlare. E come dico sempre in trasmissione, chi non urla è complice.